Tripla per Minoli, 7 punti per lui. E la sesta tripla di Vigevano nella partita. Qui c'è anche un recupero. Pavone, come si ferma in tempo. Altri due per Minoli. Qua Banfi, pecca d'esperienza se si buttava. Troviamo tutti 98 di Lissone. Che è un po' un gruppo giovanile che sta facendo bene. Che ha costruito lui, perché lo allena anche quello da 5-6 anni. Da sostanzialmente dal primo anno di pallacanestro. Sostanzialmente forse è stato l'anno... La partita che adesso è accesa. E Fornara apre il contropiede di Vigevano. Palla direttamente nelle mani di Grugnetti. Novanti ora deve superare la metà campo. Altra rubata di Grugnetti. Si esalta la parte di...